e adesso passiamo alla pagina dello spettacolo finisce la storia d'amore tra il celebre cantante Mirko Pastore e la modella Nibes quest'ultima sembrerebbe sparita senza dare alcuna spiegazione si trovera nelassato ma ricorda che a me l'ira fa sapere giusto tra una settimana chi sa nasconda come a te non è più femmina per me proprio tutto chi l'amore caggerà tu parla con me se mi arricchere basta parla con me perché forse è giù giusto cadda sape chi te sente non sape carimona parla con me però guarda non faccia falla per me che una volta è lo prima a sapere tutto quello che ho provato per me ti mettesse un minuto postami e ti fa capire che sento quando a gente trasri la vita tua io e ti fa senti nessuna però se mi arricchere basta parla con me se mi arricchere basta parla con me perché forse è giù giusto cadda sape chi te sente non sape carimona parla con me però guarda non faccia falla per me che una volta è lo prima a sapere tutto quello che ho provato per me mi fa senti nessuna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.